Un modello di banca di credito cooperativo, capace di soddisfare sempre di più i propri territori di competenza, offrendo a soci e clienti servizi sempre più efficienti e che ha tra le proprie priorità la valorizzazione delle risorse interne. È il punto di riferimento di Cosimo Puglia, nuovo direttore generale della Banca 2021, credito cooperativo del Cilento, Vallo di Diana e Lucania. Pugliese di origine, nonostante la sua giovane età, il nuovo direttore generale, dirigente dell'area governo BCC della capogruppo, Icrea Banca, vantaggia esperienze di grande rilievo come direttore generale presso importanti BCC aderente al gruppo bancario cooperativo Icrea. Io sono originario della provincia di Lecce, sono leccese anche se di adozione, però ormai radicato nel Salento da tanti anni, originario di Manduria, però subito dopo la laurea sono stato sempre fuori in giro sia per l'Italia che anche all'estero, dove ho arricchito la mia esperienza personale e professionale. Recentemente le ultime esperienze sono state sempre nell'ambito del gruppo bancario come direttore generale della società corporale del più grande del gruppo bancario, BCC Fettoring e gli ultimi due anni a Crotone come direttore generale della banca del Crotonese, sempre per conto della capogruppo. Da gennaio sono qui in Vallo della Lucania, dove insieme al Consiglio della Banca e al Collegio Sindacale stiamo portando ovviamente questa azione di intensa sia di organizzazione che rilancio anche della banca, al fine di poter superare insieme anche questo periodo Covid post pandemia che speriamo poterci abbandoni quanto più e far trovare preparata la banca i suoi collaboratori nel miglior modo possibile, in modo da poter essere pronte a soddisfare le esigenze della ripresa economica che ovviamente ci presenteranno come richieste i nostri clienti, i nostri soci. La prima impressione è sicuramente un'impressione positiva, ho trovato sicuramente una banca strutturata, strutturata, organizzata, con unità media tra l'altro molto bassa e un livello professionale molto elevato. Ovviamente il compito nostro, compito mio, insieme a quello del Consiglio è quello di valorizzare al massimo queste competenze, perché oggi per fare banca è assolutamente necessario avere specializzazione, essere preparati, seguire le normative in modo tale di poter fare banca nel miglior modo possibile e aiutare anche il cliente nell'attività proprio di consulenza, che significa proprio per me confronto e vicinanza reale sia alle imprese che alle famiglie. Quindi nel compresso poi ho trovato una banca, un territorio molto attento alle dinamiche della banca stessa, come banca di riferimento del territorio, parliamo della banca più grossa per il centro sud, per il gruppo bancario Icrea e quindi una rilevanza sia territoriale che nazionale della quale noi teniamo conto, io terrò conto e condividerò insieme al Consiglio tutte le scelte migliori per poter rafforzare e crescere la presenza della banca nel territorio ma anche la sua qualità del servizio. Fin dal primo momento grandissima attenzione è stata rivolta alle 25 filiali al vastissimo territorio di competenza della banca 2021, che abbraccia tre regioni e quattro province. Anche da questo punto di vista il nuovo direttore generale Cosimo Puglia ha le idee molto chiare. La conoscenza della banca e dei territori, quindi dei collaboratori e delle persone, degli operatori dei territori stessi è fondamentale per poter indirizzare l'azione della banca, è importante farlo nel miglior modo possibile, nel più breve tempo possibile. La banca ha 25 filiali, come dicevamo, per me tutti i territori sono importanti, sono fondamentali. È una strategia che condivide anche ovviamente il Consiglio e la Capogruppo, la banca deve essere più possibile presente sui territori, quindi nelle filiali, noi dobbiamo avere la presenza e le competenze migliori, la banca e la direzione dà il supporto ovviamente alle filiali in ogni attività che svolge per la clientela. D'accordo con il Consiglio ovviamente ho intenzione di rafforzare tutte le filiali per rafforzare il servizio e quindi avere più presenza e più ritorni anche positivi da parte del territorio stesso.